ciao ragazzi che sono abbo e oggi siamo con due ospiti speciali uno è vecchio ospite del canale e l'altro ci accompagnerà nel resto del nostro viaggio ciao sono mi chiamo emanuele sono un nuovo membro di abojex gamers per comunità lo chiameremo manu de gamer perché è bobo jack abojex poi c'è gamers che rimane quindi manu de gamer ora voi potreste chiedervi perché siamo sulla pagina offline di google chrome bene ecco perché cliccando sul dinosauro si avvierà un simpatico e smaremmante il videogioco in questo momento sto giocando io però faremo turni ecco e già hai perso prego adesso c'è manu oh già manu non è torta no il mio record è di quasi mille posto persino ok ora barro io sono un asso a questo gioco sono il migliore a giocare questi giochi su google ma lo conoscevi almeno certo dai aspetta questa è la seconda per riscaldamento dai ecco salto primo cactus dinosauro corri bene ah già se vi chiedete come attivarlo da computer basta che schiacciate barra spazzatrice durante cioè se siete offline ok ah già se arrivi a 500 ci sarà una piccola sorpresina che sorpresa arrivaci il sorpresa 300 ah va sempre più veloce che bello grande barrofisch ci saranno degli uccelli neri ah ok ho perso ok adesso sono io ah boh dai scusate se non parlo ma devo essere concentrato esatto magari potete commentare voi poi dopo metterò come screenshot i pari punteggi vediamo chi ha vinto adesso nessuno si ricorda il suo a parte barrofisch perché è come 30 non parare non sono bravi ma dai si vede ah non so come sarà l'acustica perché siamo all'aperta e comunque ho leggermente battuto il tuo record 500 40 40 50 60 uccelli neri ok ti chiedevi degli uccelli neri eh no oh facciami tanto due quando due un po' può andare devo dire i capelli ecco bene ho perso ok questo era un video abbastanza corto quindi può terminare qui si ok tipo 5 minuti video neanche però ok ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao